è partito si è partito ho sempre sognato a fare un vlog in una macchina anche se non ne capisco il motivo si se ve lo state chiedendo sono in macchina vediamo dove c'è un po' di luce qua mi sono fermato un attimo sto tornando a casa da lavoro perché devo assolutamente farvi vedere questo aspettate paesaggio completamente innevato è veramente un peccato che la telecamera del cellulare non riesca a riprendere questo scenario semplicemente fantastico dovete sapere che qui sono parecchi giorni che nevica e questo è il risultato praticamente si non si vedrà mai e questo mi dispiace veramente tanto comunque direi che per questo breve spero che sia breve blog sia meglio spostarci in un luogo un pochettino più comodo per me quindi ci vediamo tra qualche secondo ecco il posto più comodo per me ora che siamo alla nostra solita postazione posso parlarvi delle novità comunque la parte che avete appena visto cioè quella prima di questa era diciamo una sorta di parte scherzosa una parte divertente che ho voluto mettere perché mi andava anche se capisco che alle volte è difficile capire quando parlo sul serio e quando sto scherzando quindi a vostra libera interpretazione detto questo posso dirvi ciò che volevo dirvi ovvero che mi dispiace veramente tanto che purtroppo ultimamente non sono stato molto attivo sul canale ma tra l'influenza tra l'otite una cosa e l'altra mi è stato veramente tanto difficile star dietro a fare video sono riuscito per fortuna a far uscire 2-3 video in quelle 2 settimane 2 settimane di grossa inattività infatti faticavo pure a rispondere ai commenti adesso sono altri 5 giorni che non ho caricato nulla adesso state vedendo questo video finalmente dopo una settimana quasi che non carico niente spero veramente di recuperare il prima possibile e niente questo video era per dirvi principalmente questo le novità stanno arrivando arriveranno gradualmente non tutte insieme come avevo intenzione di fare magari nuove serie, grandi ritorni, non vi anticipo nulla semplicemente scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa... non lo so che cosa di preciso scrivetemi qui sotto nei commenti qualcosa spero di riuscire sempre a intrattenervi al meglio con i miei video spero di riuscire a divertirvi soprattutto perché questo è il mio obiettivo principale spero di non annoiarvi e spero anche che le novità prossime del canale possano piacervi detto questo direi che il video si può concludere qua così non lo prolunghiamo troppo aspettate la prossima settimana grosse novità e magari qualche creepypasta perché no detto questo posso chiudere qui il video Viral vi saluta e vi augura una buona giornata e... Viral chiudo